Dopo lunghi nove mesi di lavoro nel reparto covid agropolese resta solo un paziente ricoverato originario di Casalvelino e giunto circa 20 giorni fa nel reparto speciale. Sono stati mesi intensi di lavoro, abbiamo gioito per le tante guarigioni ma abbiamo anche pianto e ci siamo sentiti sconfitti insieme ai familiari delle tante persone che non ce l'hanno fatta. Sono le parole della dottoressa Rosa Lampasona, responsabile del reparto covid agropolese che ha tracciato un bilancio del lavoro svolto dall'attivazione del reparto speciale. Noi da ieri abbiamo dimesso tre pazienti, abbiamo attualmente un solo paziente ricoverato in terapia subintensiva che le sue condizioni attualmente non destano preoccupazioni quindi siamo in attesa, speriamo a breve di negativizzazione, abbiamo ricoverato da quasi un mese, dal 30 giugno e si spera che a breve possa tornare finalmente a casa e speriamo che nei prossimi giorni non possa ricoverarsi più nessuno nel nostro presidio ospedaliero. Il vostro lavoro è stato incessante da diversi mesi, dal mese di ottobre, specifichiamolo. Ad oggi quanti ricoveri, dottoressa, sono stati effettuati presso il reparto speciale? Ad oggi quasi nove mesi dell'apertura del 27 ottobre abbiamo fatto 153 ricoveri tra terapia intensiva e subintensiva per cui è un numero abbastanza notevole che ci ha portato un grosso impegno in questi nove mesi non solo di lavoro fisico ma soprattutto psicologico perché lavorare con questi pazienti e supportarli soprattutto non solo da un punto di vista medico, farmacologico e terapeutico ma soprattutto psicologico lì dove erano qui da soli e quindi anche le famiglie di appartenenza ce li hanno affidati per noi sono diventati i nostri familiari per quell'impegno di tutto il mio staff compreso noi medici, dottoressa Nese è qui con me, ha iniziato a lavorare da subito con me il dottore De Martino insieme a tutti gli operatori non solo gli infermieri io parlo anche degli operatori sociosanitari ci siamo occupati di questi pazienti come veramente fossero i nostri familiari i parenti ce li affidavano dicendoci ogni giorno dottoressa una carezza in più a papà a mamma e quindi per noi è stato non solo un lavoro fisico ma soprattutto un lavoro psicologico che ci ha portato a piangere quando abbiamo perso pazienti che per noi erano diventati ormai i nostri familiari e ci ha portato a giuire quando finalmente sono tornati a casa e abbiamo potuto riconsegnarli alle proprie famiglie quindi oggi diciamo siamo orgogliosi di avere fatto un lavoro che ha portato veramente tanta serenità anche a questo territorio perché da nove mesi abbiamo accolto tanti pazienti del territorio e quindi anche la vicinanza io penso che per un familiare e per un paziente ricoverato è stato importante abbiamo cercato veramente di accudirli e oggi la testimonianza di tutti quei pazienti non solo i pazienti che sono tornati a casa che ci chiamano ci vengono a trovare ci vengono a salutare ci telefono tutti i giorni ma anche di quelli che non ce l'hanno fatta che ancora oggi ci chiamano ci ringraziano e questo per noi penso sia la cosa più bella che abbiamo potuto veramente poter dimostrare che ci abbiamo messo l'amore perché ripeto fare un farmaco una terapia è tutto relativo cioè nel senso è semplice somministrare una terapia farmacologia ma la cosa importante abbiamo cercato di somministrare affetto amore dal 19 giugno il reparto covid ha subito una riorganizzazione dei posti letto resta infatti attiva nel presidio solo la terapia subintensiva si nell'ultima riunione effettuata il 19 giugno con la riduzione del numero dei casi covid si è pensato una riorganizzazione dei presidi ospedalieri covid hospital per cui si è deciso di mantenere a scafati i quattro posti di terapia intensiva che aveva noi avevamo dieci posti di subintensiva e sei di intensiva si è deciso di annullare l'intensiva dandola a scafati e a noi di ridurre dai dieci posti sette di subintensiva questa è una riorganizzazione dettata logicamente da quello che succede attualmente questo non significa che nel caso noi speriamo assolutamente di no ci possa essere un ritorno con un aumento dei casi noi siamo già pronti perché i 16 posti sono attualmente presenti non attivi ma se ci fosse la necessità nell'immediato ci saremo di nuovo ripronti a una nuova riorganizzazione un lavoro di squadra a 360 gradi svolto con grande sinergia e professionalità come testimoniano anche le parole della dottorissa Antonella Nise il lavoro di squadra è stato tutto parte da lì parte con un'affinità professionale anche umana di intenti di scopi e questo è stato forse il nostro punto di forza quello che ci ha portato a diventare quello che siamo diventati senza nessuna superbia senza nessuna retorica abbiamo fatto un lavoro di cuore e di professionalità e penso che i nostri pazienti ne siano stati i protagonisti principali e quindi questa è una cosa che ci riempie di orgoglio e ci spinge per andare avanti sperando che tutto possa risolversi e finire presto e bene il monito della dottoressa Lampasona è sempre lo stesso e soprattutto è rivolto ai giovani che in questi ultimi tempi sembrano essere quelli più colpiti dal covid-19 sicuramente il mio augurio è quello che tutti gli agropolesi il comprensorio e non solo tutti i turisti che ci verranno a trovare in questo periodo estivo possono trascorrere con serenità le loro vacanze ma sicuramente mantenendo sempre quella prudenza necessaria per se stessi e per gli altri perché bisogna anche rispettare gli altri soprattutto perché a volte il pericolo non è neanche per se stessi ma per chi ti circonda quindi con serenità divertitevi perché è giusto dopo due anni quasi di chiusura che sia così una maggiore sicuramente avvertimento per i giovani i genitori bisogna dire giustamente anche io due figli di divertirsi ma mantenendo le precauzioni giuste soprattutto per gli altri che possono essere i propri vicini, amici, parenti, nonni o quant'altro quindi con tranquillità, serenità senza essere sicuramente dopo due anni è stato un incubo uno lo capisce per tutti però con tanta serenità di viverlo nel rispetto degli altri grazie grazie